Ben ritrovati a tutti e a tutte a questo nuovo video nel quale, o meglio con il quale, iniziamo un nuovo corso, come vedete qui, eh? Primo video, prima scaletta, presentazione del corso. Il titolo è Fish, una shell per sostituire bash. Ecco, prima di tutto cos'è una shell? Una shell non è nient'altro che un programma che ci permette di interagire con il nostro sistema operativo mediante un terminale o console. Quindi è un programma che ci permette appunto di colloquiare con il nostro sistema operativo, di gestirlo, di sfruttarne le potenzialità, ma non mediante un desktop grafico come quello che vedete qui in questo momento, come Unity, per esempio, ma bensì solo con l'interfaccia a caratteri famoso o famigerato, a dipendenza dei punti di vista, terminale, detto anche console in gergo tecnico. Allora, cosa permette di fare? Ormai chi segue il mio canale, e anche altri ovviamente avrà già avuto modo di vedere chi usa il terminale, cosa si fa in un terminale? Lo si apre, si eseguono dei comandi interattivamente, ovvero si digita un comando, il terminale risponde, o meglio, il sistema operativo che sta dietro questo comando risponde, ci dà la risposta che abbiamo bisogno. Oppure anche, è sempre possibile, assemblare, ovvero raggruppare, unire più comandi in un cosiddetto script, ovvero in un file, per poi essere eseguiti tutti assieme in blocco. Allo stato attuale, quindi questa shell, per la maggior parte delle distribuzioni Linux, è bash, la famosa bash, credo che appunto, sicuramente sul mio canale, ma anche in altri ambiti, avrete già sentito parlare di bash, ebbene bash è la shell, ciò che abbiamo appena spiegato, è la shell predefinita, quindi quella che potete utilizzare aprendo un terminale sul vostro sistema operativo Linux. E Ubuntu non fa eccezione, anche Ubuntu da sempre, da quando è nata, credo, dieci anni fa, o più o meno, poco più di dieci anni fa, Ubuntu ha sempre portato bash come shell predefinita. Ecco, spiegato in due parole cos'è una shell, e spiegato anche il significato del titolo di questo mio nuovo corso che vi sto presentando. Fish è un'alternativa a bash, detto in due parole, e quindi io con questo corso mi prefiggo l'obiettivo di presentarvi un'alternativa alla bash predefinita, che è appunto impostata come tale, nella maggior parte, per non dire quasi tutte, o tutte le distribuzioni Linux. Ecco, questo appunto è scopo di questo corso, diciamo ecco, un po' pomposamente ho deciso di far finire questa serie di video, che si seguiranno nelle prossime settimane, tempo mio permettendo per registrarle, naturalmente. Ecco, l'ho chiamato, dico un po' pomposamente corso, perché in realtà più che proprio un corso passo a passo su come si usa fish è una presentazione, una panoramica, con esempi anche a volte, dell'uso di fish in confronto e in alternativa a bash. Dico questo, che non è appunto un corso passo passo, perché c'è un prerequisito, almeno io, il seguente prerequisito, prima di guardarvi questa serie di video, vi consiglio di seguire, se non avete mai avuto a che fare con una shell, non sapete cosa sia una shell, avete appena sentito adesso che cosa sia una shell, avete paura di usare il terminale, non sapete neanche cosa sia un terminale, siete nuovi in Linux e quindi, sentendo parlare di terminale, vi siete spaventati o non sapete che cosa sia, vi è un argomento oscuro per voi, non avete mai creato uno script in vita vostra, allora sarebbe meglio, questo è il mio prerequisito, il mio consiglio, sarebbe meglio seguire dapprima un corso sugli script bash. Sul mio canale, tempo fa, ho già avuto modo di pubblicare un corso proprio sugli script bash, incluse le basi della programmazione per poter creare i propri script basati sul linguaggio della shell bash. Ecco, non necessariamente per pubblicizzare quanto è presente sul mio canale, ma questo è uno dei corsi che potete trovare in rete basato sugli script, sulla shell bash. Tuttavia, visto che vi sto presentando un nuovo video, sto registrando un video per il mio canale, vi presento quanto è già disponibile sul mio canale. Poi, naturalmente, potete fare le ricerche che volete in rete e guardare, seguire anche le alternative, naturalmente. Tuttavia, ecco, partiamo comunque con il corso bash come prerequisito, che ho già pubblicato tempo fa appunto sul mio canale. Qui sullo sfondo del video vedete che ho già posizionato il mio browser, il mio navigatore internet, sul mio canale e sulla playlist che raccoglie il corso sugli script bash. E si tratta di un corso che avevo suddiviso in 18 parti, ecco qua, raccolto appunto comodamente in questa playlist, quindi se capitate o accedete al mio canale, cercatevi la playlist con questo nome, corso sugli script bash, e incluse le basi di programmazione, ecco. Perché ovviamente non è sufficiente conoscere il linguaggio di una shell, che sia bash o un'altra, ma per poter costruire qualcosa di un po' più complesso che il singolo comando da dare nel terminale, occorre anche avere un minimo di conoscenze di programmazione, perché le bash, così come altre shell, così come altri linguaggi di programmazione, sono appunto dei linguaggi di programmazione. Componendo i comandi si possono creare delle cose interessanti e utili da usare sul nostro sistema operativo. Ecco, quindi, riassumendo rapidamente, questo è un video introduttivo sul nuovo corso che sto preparando e vi sto pubblicando in questa e nelle prossime settimane, è sulla, su una shell, una delle parecchie shell che esistono, a dire il vero, per i sistemi Linux, che è Fish. Impareremo a conoscerla e, appunto, come prerequisito, ripeto, per chi non ha nessuna base in questo ambito, è sicuramente interessante avere come prerequisito, ripeto, il corso sugli script bash. Questo anche perché io presenterò Fish con una panoramica anche nelle parti di programmazione, ma non starò, non mi soffermerò a spiegare proprio lo scopo del comando tal dei tali, il perché funziona così e cos'ha, perché queste cose, appunto, le basi di programmazione, come vedete qui, le ho già spiegate nel corso precedente sugli script bash. Quindi, guardatevi il corso sugli script bash e poi, sempre che sia di vostro interesse, ovviamente, potete passare a seguire questo corso sulla shell Fish. Questo come premessa generale. Cosa faremo in questo corso? Quindi, nei prossimi video, a partire dal prossimo in avanti, cosa faremo? Impareremo, ovviamente, questo l'abbiamo già capito, a conoscere una shell chiamata Fish, che, appunto, ha delle caratteristiche molto interessanti, secondo me, ed è anche per quello che ho avuto, come dire, lo stimolo di mettere a disposizione anche a voi le conoscenze che ho acquisito io su questa shell Fish, perché lo trovate interessante. Quindi, ho detto, qui è il caso di condividere con gli iscritti al mio canale e anche tutti gli altri che capitassero sui miei video. In due parole, possiamo dire che una delle cose interessanti di questa shell Fish è che ha, a mio modo di vedere, una sintassi, come dire, più umana e vicina ad altri linguaggi di programmazione rispetto ad altre shell, che a volte, e chi ha seguito, se seguirete il corso sugli script bash ve ne accorgerete, che usano diversi simboli in diverse situazioni per fare, per eseguire determinate operazioni, ma proprio simboli tipo il dollaro, il cancelletto, che ne so, l'asterisco e queste cose qui, sono, diciamo, simboli molto stringati, per definire la sintassi, ma un po' criptici, poco intuitivi, poco parlanti, quindi, o, come si dice, sia molto esercizio usare bash, e quindi si conoscono al volo questi simboli, si imparano, entrano nella nostra mente, oppure può essere più pratico, più produttivo, usare una shell come Fish, che evita il più possibile questi simboli, e al loro posto usa, magari, delle parole più parlanti, dei termini più parlanti, chiamare, fanno la stessa cosa, però sono più intuitivi, insomma, ecco, più facili da memorizzare. Quindi una sintassi più vicina a quella che è sintassi normale di altri linguaggi di programmazione, ritenuti più avvenuti, più avanzati, come, che ne so, Python e altri linguaggi, ecco, di questo tipo. Quindi, Fish è una shell alternativa alle classi che al momento più conosciute, bash o zsh, ma non sono le uniche, ci sono, come ho detto un minuto fa, in ambito Linux ci sono svariate shell, ognuna delle quali è più forte o meno in un certo ambito, e Fish fa parte di questo gruppo di shell. Dico alternativa perché, appunto, bash solitamente è quella predefinita, come detto, quindi alternativa non perché sia particolare rispetto alle altre, perché fa parte del gruppo delle shell, ma è un'alternativa a bash, come lo è zsh e come tante altre. Allora, sul sito del progetto Fish, Fish stessa è definita come, ovvero c'è una frase sul sito, e ve la posso anche mostrare qua dietro intanto, eccola qua, la vedete qui, il titolo del sito è finalmente, è tradotto più o meno, finalmente una shell per gli anni 90. Questo perché Fish è un progetto relativamente recente, è partito su nuove basi rispetto agli altri progetti, perché bash o altre shell sono molto più, come dire, antiche, informaticamente parlando rispetto a Fish, che è partito negli anni 2000 come progetto, già dopo il 2000 come progetto. Ecco che addirittura questo slogan, io lo cambierei leggermente, direi finalmente una shell per gli anni 2000, più che gli anni 90. Ecco, anche se probabilmente intuitivamente si può capire che parlando di un terminale, di un'interfaccia a caratteri, si parla di secolo scorso, ecco, e quindi hanno voluto dare il titolo al sito principale di Fish, parlando ancora di anni 90 del secolo scorso e non degli anni 2000, per non apparire forse troppo moderni. Ecco, comunque, in sé è un progetto decisamente più recente di altri. Ecco. Personalmente da qualche mese che ho adottato Fish come shell predefinita, ebbene sì, sul mio sistema Ubuntu, quello che state vedendo adesso che sto usando, non ho più Bash come shell predefinita, ma Fish. E appunto, dopo questo corso, perché no, spero di riuscire a convincere anche qualcuno di voi interessato a questo argomento, magari a farci un giro su questa shell Fish e magari addirittura convincersi come me che vale la pena passare definitivamente a Fish. Chi lo sa? Tutto dipende da come riuscirò a presentarvi i vantaggi di Fish e magari a farvi sentire, fra un video e l'altro, il mio, tra virgolette, entusiasmo per questa shell rispetto ad altre. Ecco, questo è un po' così lo scopo anche fra le righe di questo corso che vi sto presentando ora. Ora, la immancabile scaletta, ormai stavo per dire come tutti i miei corsi, ma non è che ne ho fatti tanto, finora ne ho fatti un paio di corsi pubblicati sul mio canale. Come ripeto, come in tutti i miei corsi che ho fatto finora, ho sempre fatto un video di presentazione, di introduzione, come questo che state vedendo in questo momento, il quale include la scaletta di ciò che seguirà nei prossimi video. Scaletta, quindi. Parte 1, quindi nel prossimo video, vedremo le caratteristiche principali di Fish, più sul generale, e come si installa Fish, come lo si ottiene operativo sul nostro sistema operativo, nel mio caso sempre Ubuntu, quindi poi altre distribuzioni, ognuna ha le sue abitudini di installazione e caratteristiche. Una parte 2, quindi queste parti coincidono con un video, quindi vedete che in tutto, ho previsto almeno nella preparazione del mio corso, sono arrivato a suddividere in nove parti questo corso sulla Shell Fish, quindi ogni parte coincide con un video. Poi vedremo, magari nel corso della registrazione dei video, chi lo sa, magari se risultasse troppo lungo, o con qualche particolarità, magari potrei ancora suddividerli ulteriormente, non lo so, vedremo, comunque. In linea di massimo ho previsto a nove parti. La seconda parte parla della gestione delle variabili, perché in Fish è un po' diversa che in Bash, quindi vedremo le caratteristiche, valeva la pena sicuramente farci un video a parte, perché è importante, è una colonna portante dell'uso di qualsiasi linguaggio di programmazione, la gestione delle variabili, e quindi Fish di sicuro non fa eccezione. Parte 3, una panoramica della Shell, particolarità e specificità, quindi anche qui un discorso in generale, appunto sull'uso della Shell, cosa vuol dire usarla, cosa mette a disposizione, particolarità, specificità sue rispetto alle altre Shell, scusate, eccetera, eccetera. Parte 4, che probabilmente è il capitolo più, non so se sarà il più pesante o meno, comunque sicuramente il più importante, perché è, parla della, parlerà dedicato alla funzione, e quindi come oggetto di programmazione degli script, qui ancora un accenno al corso sugli script bash, che dovete seguire come premessa, come prerequisito, si parla anche qui ovviamente delle funzioni, perché in tutti i linguaggi di programmazione, praticamente esiste, in tutti, credo io, tutti, tutti sono decine e decine di linguaggi di programmazione, non ne conosco una minima parte, comunque in tutti quelli che conosco, il concetto di funzione esiste, e anche Shell, Fish non fa eccezione, anzi addirittura è veramente un oggetto fondamentale, la funzione in Fish, si fa tantissimo con le funzioni, vedremo, particolarità di utilizzo, parti 5, parte 6, ho diverse cose da mostrarvi, e lo suddivise più o meno in due parti equilibrate, perché appunto un video solo forse risultava troppo, quindi 5 e 6 hanno lo stesso tema, sono come dire, appunti sparsi, tra virgolette, esempi di utilizzo, particolarità di utilizzo per risolvere una determinata situazione, come si fa, ecco, raccolte durante l'utilizzo e lo studio della Shell da parte di me stesso, insomma, perché anch'io ho dovuto imparare ad usarla prima di pensare a fare un corso, e quindi per quello che, per l'esperienza che ho potuto fare, ho cominciato a raccogliere delle particolarità appunto, delle modalità di utilizzo pratiche, parte 7, vi mostro la traduzione di script creati originalmente in Bash, e confronto del codice con quelli che poi funzionano per FISH, traduzione di quali script, di quelli che io ho creato per mia utilità, e che ho già avuto modo di presentare sul mio canale, con dei video specifici, vedremo qui nella parte 7 appunto questi due, tre esempi di script miei, che ho creato prima di arrivare a conoscere FISH, e quindi li ho creati in Bash, poi un ottimo esercizio appunto è stato quello di tradurli in FISH, vedere se riuscivo a ottenere lo stesso risultato in un modo più oppure meno complicato, più efficiente o meno a livello del codice, eccetera, eccetera, quindi lo vedremo in questa parte 7 che trovo anche interessante. parte 8, creare dei dialoghi interattivi con il comando dialogo o dialogo, se lo diciamo in inglese, ecco questa è, tengo a precisare che è, come dire, un bonus, un'aggiunta, perché non è che dialogo sia un comando specifico per FISH, avrei potuto benissimo integrare questa parte 8 anche nel corso BASH a suo tempo, perché è un comando di Linux del sistema dialogo, cioè non è legato a una BASH, a una shell specifica. diciamo che ho colto l'occasione di questo corso sulla shell FISH per integrare anche la presentazione di questo interessante comando che permette appunto di creare dei dialoghi interattivi. Vedremo tutto a tempo opportuno, qui è solo la presentazione rapida della scaletta. parte 9 e ultima, ecco qua, praticamente quello che ho poi fatto io quando mi son convinto che FISH poteva essere una shell utile per me e interessante da utilizzare a posto di BASH, l'ultima parte del corso sarà come rendere FISH la shell predefinita al posto di BASH sul nostro sistema operativo. Ecco, questa è la scaletta che ci aspetta e per la quale appunto dovrò registrare questi video. spero di riuscire appunto che il tempo non sia troppo tiranno e di riuscire a registrarli a scadenze regolari per presentarveli a scadenze regolari. Fine di questo video con una solita documentazione, riferimenti in rete, dunque ovviamente il sito principale del progetto FISH Shell, che è questo, FISHshell.com.com, che è questo che avete già visto un attimo fa per lo slogan a titolo. Questo qui è appunto il sito con tutte le indicazioni. Poi nelle mie ricerche, nei miei studi da autodidatta su questa shell ho cercato cosa potevo trovare in rete e ho messo qui alcuni link interessanti che parlano più o meno approfonditamente appunto di questa shell. Ho messo anche dei link tipo questo che elenca le diverse shell che esistono in ambito Linux e vedrete che sono decine, sono diverse le shell disponibili. C'è anche questa pagina del Wikipedia che confronta le differenze fra le varie shell nell'uso e nelle funzionalità. Interessante che questa pagina, poi qui è un sito di domande e risposte che ha a che fare con la shell FISH, un tutorial e anche un altro tutorial, mi sembra, che presenta appunto questi siti, queste pagine. Parlano comunque tutti in un modo più o meno diretto della shell FISH. Ecco, direi che per questo primo video di presentazione del corso ho terminato. Non so se ho stuzzicato la vostra curiosità o meno se continuerete a seguire o meno questo corso. Comunque, la speranza è quella. Con questo vi saluto. Ciao ciao e al prossimo video!